Ciao ragazzi e ragazze ecco oggi volevo provare sul mio Amiga Classic con Blizzard Power PC 256 MB di RAM, Power PC a 231 MHz, overclockata, era un 200 MHz, ecco con BVision, Retundo To the Castle Warstain, ecco per farlo partire e caricare ci ha messo un bel po' perché usa anche lo Swoop, la memoria virtuale e adesso qui siamo nella pagina diciamo iniziale dove ecco avendo ridotto le texture e messo tutto al minimo come vedete nella presentazione è un po' sgranato le texture però diciamo che si può quasi giocare come velocità i frame al secondo sono su 8-10 frame ecco come visuale come vedete soprattutto il pavimento purtroppo con la BVision ecco siccome questo gioco chiaramente è stato fatto per le schede grafiche Radeon ho dovuto con la BVision ridurre tutto al minimo però come vedete così ecco in questo caso nel gioco è abbastanza il pavimento e le texture l'ideare ecco sono abbastanza decenti dovrei lavorarci ancora un po' se avete dei suggerimenti ditelo pure che sono sempre ben accetti ok dopo questa piccola introduzione vedrò se riesco a migliorare le texture del gioco grazie a tutti ciao alla prossima puntata